Dall'aeroporto militare di Cameri, dove era giunta mercoledì, alla messa in Duomo a Torino, giovedì 12 novembre. Il viaggio della Sacra Effigie della Madonna di Loreto ha toccato anche il Piemonte, undicesima tappa del pellegrinaggio iniziato nel mese di gennaio, in occasione del Giubileo Lauretano, l'anno giubilare concesso da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto, patrona degli aeronauti. Oggi è per noi una tappa fondamentale, in quanto come comandante di Cameri ho l'onore di ospitare questo pellegrinaggio in quella che è una delle circunzioni più grosse che abbiamo in Italia e che ci vede coinvolti in attività che spaziano dal territorio del Piemonte, parte della Lombardia, la Valle d'Aosta e la Liguria. Il centenario è un evento fondamentale perché ci consente con questa attività itinerante di toccare tutte le parti della nostra nazione per poter condividere i momenti importanti di preghia e raccoglimento, ma per ricordarci soprattutto l'importanza della protezione. Alla messa, celebrata da Monsignor Gabriele Mana, Vescove Merito di Biella, insieme all'autorità militare ha partecipato anche una delegazione del Consiglio regionale del Piemonte, guidata dal Presidente Stefano Allasia. A nome dell'Assemblea ha siglato il registro del pellegrinaggio ottenuto dall'aeronautica, confermando le relazioni che storicamente legano le due istituzioni. Ricordate anche durante il convegno formativo per le scuole, trasmesso sulla pagina Facebook del Consiglio e dedicato alle prospettive future del settore aeronautico in Piemonte. Un momento di preghiera in un momento di difficoltà della nostra comunità, grazie davvero all'arma aeronautica, al colonnello Mastroberti, insieme al Presidente Allasia e a Monsignor Nosiglia per aver permesso di ospitare la messa e soprattutto un giorno particolare perché si sono ricordati anche i 23 martiri di Nassiria, insomma persone che al servizio della comunità lavorano in silenzio, così come oggi stanno lavorando in silenzio molti medici per combattere il momento pandemico e per sostenere e aiutare la nostra comunità. Il 13 novembre l'effigio della Madonna di Loreto sarà ad Aosta e prima di lasciare il Piemonte sarà in Duomo a Novara lunedì 23 e nella chiesa di San Paolo a Casale Monferrato il lunedì successivo 30 novembre.